Frastornati ed increduli i parenti per quanto accaduto alla tomba della loro mamma deposta nel campo degli inumati lo scorso anno nella nuova ala del cimitero di Rosciano. Increduli ma anche scossi per l'inspiegabile gesto di profanare una tomba di una persona anziana ed anche per le evidenti tracce lasciate dai profanatori di operazioni poco chiare, quasi un rituale effettuate sulla tomba della povera mamma. Ancora presenti tracce di colatura di candele accese non votive dato il colore, pezzi di carta bruciati, piante e ornamenti aneriti dal fuoco ma soprattutto la foto della defunta portata via dai supporti e mai più ritrovata. Qualcosa che lascia attoniti i parenti che non sanno darsi una spiegazione logica per l'accaduto scoperto alla Vigilia di Natale appena passato, mattinata nella quale si sono recati al cimitero per una visita sulla tomba facendo invece la macrabra scoperta. Sono rimasto malissimo, addirittura adesso non riesco più a dormire bene, mi sveglio la notte e penso a questa cosa, mia moglie lo stesso, mia figlia lo stesso, quindi sono veramente indignato, non credevo che si potesse arrivare a tanto, profanare una tomba di un familiare è una cosa bruttissima, non abbiamo mai avuto minacce, mia madre era una persona tranquillissima, buona, non aveva mai avuto screzzi con nessuno. Il cancello in quei giorni non era funzionante, quindi di sera entrava praticamente chiunque. Esatto, esatto, mi hanno detto che era rimasto aperto da mesi. insomma. E giustamente un po' di attenzione in questo luogo? Un'attenzione al signor Sindaco di fare in modo che le telecamere che ci sono già, che però non funzionano da anni, vengano perlomeno al pioperto repristinate e eventualmente aggiungerne un'altra qui in questo cancello che è l'ultimo, che è un po' isolato, fare in modo che ci sia anche qui una telecamera funzionante. Le forze dell'ordine comunque sono state attivate? Sì, sono state attivate, hanno detto faranno le loro indagini. Le telecamere avrebbero certo aiutato gli inquirenti a fare chiarezza su questa vicenda che desta qualche angosciante interrogativo che gli stessi familiari vorrebbero dissipare. Che senso ha profanare la tomba di una persona anziana? La vigilia di Natale? E perché proprio lei? Chi e quanti hanno fatto tutto questo? E perché? Che fine ha fatto la sua foto? A che cosa è servita? E perché dare poi fuoco a oggetti deposti sopra la sua tomba? Cosa c'era scritto nei pezzetti di carta accesi? Cosa è accaduto in quel posto la notte tra il 23 e il 24 di dicembre scorso?